Very Core Americano presenta Renato Ruschel in Non Facciamo Confusione Con Lolita Hey hey, vorrei imparare Vorrei nel judo brillare Perciò, per prender lezione Oggi ho messo l'inserzione Cercasi vero esperto di judo, lunga esperienza per lezioni domicilio Eccomi, sono vero maestro di judo Mi chiamo Tofuso Lamoto Fujiyama Cintula Nela Mio nonno sfidò grande mandalino a Tokyo Mio padre sfidò grande mandalino a Osaka Ce l'ha rimasto soltanto un mandalino a Canton Dice, chi va nel cantone a prendergli il mandalino? Io no Il gelataio dice Se non le piace il mandalino c'è anche al limone Sì, me ne dia uno da cento lille Vedono come l'ide piccola tu l'andò? E invece no Judo molto importante Ora tu prova a gledirmi e vedrai grande forza orientale Con cosa mi aggledisci? Con cosa mi aggledisci? Sì, 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 sì Va bene questa scopa? No, nolevole scopa troppo fragile, prendi o nolevole badile Guardi che hai di ghisa Oh, per il pennaccio del Fujiyama Una geisha con la ghisa Benissimo Ora tu picchia molto forte su mia onolevole cappoccia Oh, mi raccomando, molto forte, eh? Giù Forse è meglio che picchiavi più piano Dica, ma lei non è un vero esperto di judo Perché si vede? Eh, sì L'esperienza non si improvvisa Non facciamo confusione Hey, hey, ragazze, attenzione Se no, facciamo confusione Ma noi insieme gridiamo Veri Cora americano Ma che differenza c'è con gli altri americani? Il veri americano batte bandiera Cora Perché ha in esclusiva tutta l'esperienza Cora In drinks di successo Ah, adesso ho capito perché è l'americano più venduto in Italia Perciò insieme beviamo Veri Cora americano